Il cimitero è una delusione, nel senso che io mi sono trovato al cimitero dopo tanti anni, io ho 55 anni, ma la signora Sindaco non è cambiato nulla, io da buon cittadino ho parcheggiato il motorino, pensavo che non si entrasse col motorino perché non si deve entrare al cimitero, un via via di motorino, ma è un abbandono totale, erbaccia dappertutto, ma si rende conto il rispetto per i defunti dove sta? Io sono un napoletano e ci tengo, sinceramente, si faccia un giro per il cimitero di Napoli. Noi abbiamo investito delle risorse per la riqualificazione dei cimiteri, non solo Poggio Reale, ma anche altri, sono molto d'accordo sul fatto che si debba far tanto per migliorare i nostri cimiteri, dove l'impegno sarà massimo perché il culto dei defunti, il rispetto e la pietà per i morti e per i vivi che vanno a pregare, vanno a salutare i defunti è una delle priorità di una comunità civile. Signor De Magistris, una sola domanda, per quale motivo via Marina è devastata dei fossi? Vabbè, via Marina le buche sono state contenute in queste ultime settimane, nel senso abbiamo cercato di sistemarle tutte, quindi non ci sono più le voragini di un tempo, ma quello di cui sono più contento di poter ribadire adesso, che via Marina è una delle strade inserite nelle gare del grande progetto che si stanno aggiudicando e quindi nel giro di alcuni mesi partiranno i lavori in tutto l'asse costero, quindi non solo via Marina, ma anche Corso San Giovanni e tutte le strade che portano da un lato verso l'area orientale e dall'altra verso Portici, quindi non ci possiamo accontentare di tappare le buche e mettere delle toppe, ma finalmente abbiamo messo i soldi per riqualificare. Vorrei ricordare le grandi difficoltà economiche che abbiamo ereditato, quindi le enormi difficoltà per poter riqualificare le strade della nostra città ed avere una manutenzione efficiente, il debito che ci hanno lasciato sulle spalle che non ci ha consentito di fare quello che avremmo voluto fare molto meglio in questi mesi. Al signor Sindaco, di tutelare di più le imprese napoletane di restauro, in vista dei restauri che dovranno partire, del lotto dei monumenti appaltati per pubblicità? Noi ovviamente quando si fanno affidamenti di lavori siamo sempre in qualche modo speranzosi che ci possano essere imprenditori napoletani che partecipano alle manifestazioni di interesse alle gare. Devo dire con motivo di grande soddisfazione e orgoglio che negli ultimi mesi sono tantissimi imprenditori napoletani che stanno investendo nella nostra città, penso al patrimonio culturale con i lavori che stanno realizzando grazie a questa amministrazione, penso agli imprenditori che hanno investito nello zoo, nell'Edellandia, nell'Ippodromo, nella mostra d'Oltremare e potrei continuare in questi esempi. Caro sindaco vorrei porle una domanda, vorrei più che altro invitarla a visitare le città del nord Europa in modo da avere ben chiaro il senso e la misura delle piste ciclabili. Noi abbiamo cominciato, diciamo Napoli prima che io diventassi sindaco di Napoli non aveva piste ciclabili, quindi cominciamo a riconoscere che questa amministrazione è stata la prima che ha messo una pista ciclabile di 25 km, adesso già siamo a 30 km con altre che sono state create e col tempo noi metteremo piste ciclabili in tutta Napoli, in questi giorni partono le prime stazioni per le bike sharing, quindi credo che è una rivoluzione fatta senza soldi ma puntando sulle piste ciclabili, non si può prendere a paragone Copenaghen, Stoccolma, Oslo o Amsterdam perché là ci lavorano da anni e anni e anni, quasi diceva che non si poteva fare e noi l'abbiamo fatto, quindi riconosciamo questo sforzo e contribuiamo tutti a far diventare anche Napoli una città bike.